Come avere successo nella vita. Avere successo nella vita è un obiettivo che varia da persona a persona. Ma ci sono alcuni principi generali che possono essere utili per raggiungerlo. Ecco alcune linee guida per aiutarti a coltivare il successo nella tua vita. 1. Definisci la tua visione del successo. Comincia chiedendoti cosa significa il successo per te. È importante avere una visione chiara dei tuoi obiettivi e valori personali. Ciò ti permetterà di focalizzarti sulle cose che sono veramente significative per te. 2. Stabilisci obiettivi realistici. Una volta che hai una chiara visione del successo. Stabilisci obiettivi concreti e realistici che ti aiutino a realizzarla. Assicurati che gli obiettivi siano specifici. Misurabili. Raggiungibili. Rilevanti e limitati nel tempo. Smart. 3. Sviluppa una mentalità positiva. La tua mentalità e le tue convinzioni sono fondamentali per raggiungere il successo. Coltiva una mentalità positiva. Credi in te stesso e nella tua capacità di superare gli ostacoli. Sii aperto al cambiamento e impara dagli errori. Considerandoli come opportunità di crescita. 4. Lavora sodo e persevera. Il successo richiede impegno e lavoro costante. Dedica tempo ed energia alle tue attività. Impara a gestire il tuo tempo in modo efficace e rimani focalizzato sui tuoi obiettivi a lungo termine. Sii perseverante e resiliente. Superando le sfide che incontrerai lungo il cammino. 5. Sviluppa abilità e competenze. Cerca di migliorare costantemente le tue abilità e competenze in linea con i tuoi obiettivi. Sii aperto all'apprendimento continuo. Sia attraverso l'esperienza pratica che attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze. Investi nel tuo sviluppo personale e professionale. 6. Costruisci relazioni significative. Le relazioni interpersonali sono fondamentali per il successo. Coltiva rapporti positivi con le persone che ti circondano. Cerca mentori e modelli di riferimento che possano aiutarti a crescere. Sii disposto a collaborare con gli altri e ad imparare dalle loro esperienze. 7. Prenditi cura di te stesso. Il successo non dovrebbe essere a scapito della tua salute e del tuo benessere. Prenditi cura di te stesso fisicamente. Mentalmente ed emotivamente. Mantieni un equilibrio tra il lavoro e il riposo. Praticando attività che ti portano gioia e riducono lo stress. 8. Adatta il tuo percorso. La vita è in continua evoluzione. Quindi è importante adattare il tuo percorso e le tue strategie quando necessario. Sii flessibile e aperto al cambiamento. E non temere di prendere nuove strade o di apportare modifiche al tuo piano. Ricorda che il successo è un concetto soggettivo e personale. Ciò che potrebbe essere considerato successo per una persona potrebbe non esserlo per un'altra.